La cipolla di Calabria ha un'importanza notevole per la nostra provincia, non solo importante da un punto di vista proprio della dieta mediterranea, quindi per la nostra cucina, da un punto di vista economico perché genera comunque economia e poi perché no, anche da un punto di vista sociale e turistico e la serata di questa sera lo dimostra perché attorno proprio alla cipolla di Calabria si generano dei festival, delle feste, degli incontri soprattutto in estate che davvero attirano tanta gente, quindi attrattore anche da un punto di vista turistico e del marketing territoriale. La provincia di Cosenza è da sempre attenta alla promozione del territorio, attenta non solo a quelle che sono le esigenze dei comuni attorno ai quali si lavora in ambito soprattutto di edilizia scolastica e di viabilità ma anche a fianco alle associazioni, alle proloco, a chi sul territorio si adopera proprio per farne conoscere le peculiarità, le bellezze, i prodotti come nel caso della cipolla della Calabria. Il tutto all'insegna di quella che è la bellezza del nostro territorio che come sempre va promozionata e divulgata al meglio.